Andrea sei troppo forte con la canzone ricomincerei mi hai fatto venire i brividi un bacio a Rossella grazie Rossella grazie auguri no Andrea sei forte ti seguo anche a Showtime tu e Gerardine siete perfetti un bacio sei bravissimo da da Francesca dal Vomero un bacione a tutto il Vomero ciao Francesca ha detto siete due bravissimi guarda guarda ce ne sa un'altra che è importante ciao Andrea ho ascoltato la tua voce la trovo molto interessante sono un produttore vorrei il tuo numero se è possibile davvero bravo aspetta una tua risposta lo possiamo dare in diretto il tuo numero caro produttore se veramente piace questo ragazzo dai il tuo numero dai allora 327 65 60 906 mi mette da contatto a noi fa piacere questi 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 65 60 906 ok allora Andrea ci vado a prendere no no ciao